Come reagisce a questi cori grazisti? Amareggiato perché si è rovinato uno spettacolo, la festa dei tifosi. Il Milan viene tutti i giorni a Busto Arsizio, era un privilegio, un onore, una fortuna ospitare una squadra così prestigiosa ed è un rammarico, con amarezza purtroppo la sensibilità dei ragazzi di colore li ha portati a non voler rientrare in campo nonostante l'intervento della dirigenza del Milan. Ho avuto la promessa da parte di Braida, di Gagliani e del capitano Ambrosini che torneranno nella speranza che la prossima partita non sarà disturbata. Quindi si prenderanno provvedimenti anche nei confronti di questi... se sarà possibile identificare in qualche modo. Questo non sta a me dirlo, ci sono le forze dell'ordine, dovranno essere loro a fare tutto quello che è necessario fare per tutelare quelli che vengono allo stadio per vedere calcio e non per dare dimostrazioni di stupidità assoluta come quella di oggi.